Uomini e donne, anticipazioni dall'11 al 14 aprile, lascia lo studio, sospetti su Nicole. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste dall'11 al 14 aprile su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Armando Incarnato, il quale si ritroverà a fare i conti con delle pesanti accuse in studio. Spazio anche alle vicende di Nicole, la tronista finirà sotto accusa, complice il suo atteggiamento sospetto con il pretendente Andrea. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, in programma dall'11 al 14 aprile su Canale 5, rivelano che ci saranno delle importanti novità sul percorso di Armando. Il cavaliere napoletano si ritroverà messo alle strette da Aurora, la quale finirà per smascherarlo riportando in trasmissione che Armando avrebbe un manager. Questa volta le accusi di Aurora non saranno campate per aria dato che, come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social. La dama porterà in studio delle prove che lo metteranno alle strette. Tali prove inchioderanno Armando e scateneranno un acceso di battito, Gianni e Riccardo saranno molto duri nei confronti del cavaliere napoletano, che a quel punto lascerà lo studio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse nella settimana fino al 14 aprile su Canale 5, rivelano che Nicole sarà nei guai. Verrà fuori che, durante un ballo con Andrea, l'atronista ha ricevuto un bigliettino da parte del corteggiatore e non ha svelato subito la verità alla redazione. Un gesto che in studio scatenerà il putiferio, l'atronista attirerà molti sospetti sul suo conto. Complici già le numerose critiche delle puntate precedenti, dove si era parlato di una possibile frequentazione con Andrea fuori dalla trasmissione Mediaset. La reazione di Roberta nei confronti dell'atronista sarà molto dura, la dama del Tronover non si farà problemi ad accusarla di essere una persona falsa. Sostenendo di aver sempre avuto dubbi sul suo conto, già espressi tra l'altro nel corso delle puntate precedenti del talk show. A quel punto gli altri corteggiatori si ribelleranno, Christian avrà un atteggiamento ostile nei confronti dell'atronista. Tanto da decidere di abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5. a questo punto gli altri corteggiatori si ammò di gratuito si riuscite le dates alcorino Russia. Giordi questa prima volta. Giordi questa prima volta. Voi insolire il trendodich irmimento Kayche. Grazie a tutti